Allora, risultati delle votazioni per la scelta del candidato sindaco all'elezione amministrativa 2014 della coalizione di centro-sinistra. Francesco Brollo 349 voti, Roberto Tremisa 163 voti per un totale di 512 voti. Applausi Approfitto per darvi il mio pensiero adesso. Breve, breve. Breve. Stai buono che adesso comando io. Scherzo. Voi e altre circa 513 persone in tutto hanno fatto in modo che per la prima volta a Tolmezzo, nella sua storia, ci fosse un candidato sindaco eletto dalla gente. E questo è grazie a voi, è una cosa straordinaria che mi dà una forza enorme. Adesso è il momento della gioia ed anche il momento della responsabilità perché vi chiedo di moltiplicare questa forza che mi avete dato perché comincia il momento più importante al quale teniamo assolutamente tutti. Andare a scalzare chi è adesso, chi è seduto, chi comanda adesso l'amministrazione comunale è un percorso che comincia da domani stesso e che voglio fare assieme a questa casa di centrosinistra che abbiamo costruito assieme, assieme al PD. Mi dispiace che non ci sia Roberto Trevisan in questo momento, gli mando un saluto. Vi chiedo di moltiplicare questo entusiasmo perché 513 persone in un momento del genere sono tantissime. Grazie a voi sono fortemente emozionato, sono teso ma senza ansia, una tensione positivissima. Grazie.